salve a tutti amici amanti dei bei libri e delle letture ad alta voce protagonista di questo episodio della narratrice di sogni sarà arthur burr radley con l'araldo nudo vi leggo la trama parigi 2044 in un futuro tecnologicamente avanzato tra brillanti ologrammi e computer neurali schiere di clandestini soprannaturali piovono sulla terra da un'altra dimensione sembrano usciti da un bestiario biblico ma saranno davvero angeli e demoni come dicono di essere al sergente soul martin che dà loro la caccia non interessa affatto le uniche cose importanti per lei sono la sopravvivenza di sion il suo androide e la fedeltà al corpo delle forze speciali a cui appartiene ma tutto cambia quando i clandestini cessano di sembrare parassiti venuti a godersi la vita e l'ombra di una guerra apocalittica incombe sull'umanità soul cattura aniel un angelo mite e indifeso che sostiene di avere il compito di fermare il conflitto imminente e invece di consegnarlo ai demoni per ottenere in cambio la salvezza di parigi soul diserta e lo accompagna in una ricerca rocambolesca e disperata devono trovare il generale dell'esercito celeste e trasmettergli l'ordine di ritirata le insidie lungo la strada sono tante il demone mamne e le forze speciali li braccano angeli spietati li attaccano e persino l'amore diventa un ostacolo da superare in questa corsa contro il tempo soul deve rinunciare a tutto e compiere un atto di fede cieca mentre aniel si sforza di essere il soldato che non è mai stato perché gli unici che possono salvare la terra sono coloro su cui non conta più nessuno gli ultimi tra gli ultimi ma serve un araldo che li chiami a raccolta prima che sia troppo tardi a questo punto mi piacerebbe leggervi un brano tratto dalle pagine dell'opera le luci di parigi scintillano dorate cinque chilometri sotto di me sembrano stelle conficcate nella terra se lo fossero davvero avrei meno paura ma non posso più esitare devo andare chiudo gli occhi mi separo dall'universo con uno strappo e l'eternità svanisce nel presente cado l'aria diventa solida un muro che prima mi schiaffeggia poi mi sostiene e da cui soffio un vento poderoso adesso sento l'attrazione verso la terra devo scendere in fretta finché posso planando oltrepasso le nuvole le gocce smettono di attraversarmi e si raccolgono in superficie sulla pellicola che mi racchiude non posso ancora chiamare pelle vedo un rettangolo buio da cui si levano montagne di rottami e spazzatura una discarica è deserta a quest'ora andrà bene non ho più tempo tocco terra con più forza di quanto credessi rotolo scivolo nel fango perdo le ali e mi vesto di carne urlo quando l'aria si dilata in due polmoni e una gola afferro l'erba ho le mani scalcio nel fango ho i piedi sono corporeo solo sol l'autoblindo griffon filava a centodieci chilometri l'ora sinuoso sotto la pioggia battente in mezzo al traffico del boulevard periferique di parigi il sergente solange martin delle forze speciali anticlandestini comac sedeva di traverso nel sedile del passeggero dopo tre missioni consecutive iniziava a sentirsi stanca con uno scatto della mano aprì il file contenente le direttive della quarta missione e il computer che aveva impiantato nel lobo temporale lo sovrappose al suo naturale campo visivo sullo sfondo del parabrezza costellato di gocce di pioggia il sergente lesse il file olografico oggetto avvistamento casuale luogo parigi avenue gambetta data 25 novembre 2044 ora 15 e 38 seguivano la descrizione del clandestino e il filmato catturato dalla videosorveglianza di un furgone di kebab l'ologramma sfocato mostrava una ragazza eterea e delicata camminare lungo il marciapiede sol chiamò sion dal sedile accanto stai dormendo il sergente chiuse l'interfaccia con uno scatto della mano e si voltò verso di lui no tranquillo situazione l'androide rispose con voce metallica saremo sull'obiettivo alle 22 e 23 la temperatura è di 3 gradi centigradi l'umidità al 77 per cento il vento soffia a 26 chilometri orari l'area è sgombra e il locale chiuderà alle 22 e 30 con un grugnito sol prese il casco appoggiato al cruscotto se lo cacciò in testa e lo allacciò abbassando la visiera molto bene disse sono abbastanza sicura che sia un demone ma concediamole il beneficio del dubbio sion assentì sono d'accordo il margine di incertezza basato sulle nostre missioni precedenti indica che sono necessari ulteriori accertamenti prima di formulare un giudizio definitivo sol sfiorò uno dei comandi olografici che brillavano ai lati del parabrezza e aprì il pannello che divideva l'abitacolo di guida dal comparto posteriore dove altri quattro androidi erano seduti lungo le fiancate ci siamo i soldati imbracciarono i fucili erano nuovi di zecca modello UP appositamente progettati per la lotta anti-clandestini equipaggiati con fucili d'assalto percezione sensoriale aumentata protocolli di attacco di ultima generazione e un aspetto abbastanza umano avevano tutti la stessa faccia e corporatura tranne minime variazioni di lotto questi in particolare erano vichinghi di due metri con gli occhi azzurri e sporgenti e la mascella squadrata appena soul si alzò dal sedile sion la seguì tu resta alla guida e intervieni in caso di inseguimento disse soul alzando la mano la risposta dell'androide fu immediata negativo l'analisi del locale lo situa in un'area pedonale con il griffon possiamo arrivare a 500 metri dall'ingresso posteriore non di più inoltre i punti di uscita suggeriscono di formare tre squadre in modo da evitare che la clandestina ci sfugga devo partecipare o una delle squadre sarà composta da un membro soltanto e in tono meno critico aggiunse sei affaticata hai bisogno di aiuto soul sospirò per essere un androide sion era vecchio era enorme tozzo così forte che avrebbe potuto spezzare il collo di un uomo come uno stuzzicadenti ma il suo modello era fatto per durare al massimo tre anni lui ne aveva dodici bene spero di essere riuscita a incuriosirvi se deciderete di tuffarvi fra le pagine di Arthur Bo Radley buona lettura ci vediamo presto con un nuovo episodio di La narratrice di sogni ciao